Ciao a tutti, sono Mario G10, bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video vlog qua sul mio canale Vi raccomando prima di iniziare a parlare del video, vi raccomando lasciate un bel mi piace Cosa più importante, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Diciamo che in questo momento se tutto sarebbe andato come doveva andare Io mi sarei trovato in macchina verso Troina per appunto la diretta della partita Purtroppo per problemi di natura tecnica come anche voi avete visto dai post E non c'è bisogno che ve lo spiego il motivo perché l'avete visto dai post Diciamo per natura tecnica anche se proprio quello non è Non ho potuto e non mi hanno concesso per problemi di natura tecnica di fare questa diretta Io ci tenevo innanzitutto a scusarmi per tutti i tifosi che sono stati veramente un sacco A iscriversi al canale, a darmi supporto, a darmi fiducia per questa diretta che purtroppo non per diciamo Per diciamo tra virgolette i miei problemi non potrò farvi Ma appunto come avete detto dal post è per problemi di natura tecnica Quindi vi raccomando nonostante questa problematica purtroppo di questa diretta che non ho potuto fare Di sostenermi qui sul mio canale youtube perché sono convinto che ci saranno altre volte Nella quale sicuramente potrò magari di nuovo organizzarmi per una diretta Magari stavolta diciamo non dico collaborando però comunque che il trapani magari mi dà una possibilità E questo niente Io volevo fare questo breve video un poco per spiegarvi ma ho spiegato tutto già nel post su facebook E niente io spero questo video vi sia piaciuto E raccomando continuate a supportarmi perché sono convinto che in futuro ci saranno altre possibilità del genere E ovviamente usciranno altri video riguardanti il calcio mercato del trapani Tutto riguardante il trapani quindi tenetevi aggiornati sul canale Vi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina E noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video Ciao